Benvenuti amici, qui è Enrico Rosetti e eccoci in questo nuovo vlog Oggi ci troviamo qua perché vi devo annunciare una grandissima cosa Ovvero che anche con l'aiuto di altre persone sono riuscito ad aprire un nuovo server discord Anche se non siamo in tantissimi nel canale perché ora come ora siamo in 126 Penso che sia un modo bellissimo per aumentare l'interazione tra me e voi Così in questo modo utilizzando il link che trovate qua sotto in descrizione Potrete unirvi anche voi al tutto Una volta dentro potete innanzitutto scrivere in chat Poi dopo utilizzare il canale vocale per parlare con altre persone E magari ogni tanto potrei unirmi anch'io alle altre persone che hanno partecipato all'interno dei miei video Secondo me è davvero un bellissimo modo per dialogare e scambiare due parole All'interno del server sono presenti le classiche sezioni del benvenuto Delle regole, della chat per scrivere da di voi E soprattutto importantissime le ultime due Ovvero la prima che è quella degli annunci Dove io vi scriverò e vi dirò tutti gli aggiornamenti Per quanto riguarda i miei video E così in questo modo riuscirete a capire Quando è esattamente il giorno e l'ora in cui io carico Sì in questo periodo sto avendo diversi problemi Per quanto riguarda la frequenza Ma perché ho diversi impegni io E suotonatamente non riesco a mantenere un ritmo stabile Così però in questo modo avrete tutti gli aggiornamenti Per quanto riguarda i prossimi contenuti L'altra sezione invece è dedicata alle vostre idee Ovvero se quindi avete qualcosa da dirmi Da suggerirmi che secondo voi è bello da fare Scrivetemelo oppure là sotto Io vi risponderò e vi dirò cosa ne penso Potete consigliarmi davvero di tutto Dalle serie alle challenge Di tutte e di più Io sono sempre pronto ad ascoltarvi E magari vediamo se si riesce A pure a creare qualche contenuto davvero davvero bello Anche col vostro aiuto All'interno del server vi avrà dato una ricompensa I primi che entreranno Visto che siamo ancora in pochi per ora E perciò frettatevi Perché davvero vi aspettiamo Sarà premiata pure l'attività nel server Ecco insomma per tenerlo un po' su E magari potreste pure partecipare nei miei video Faccio tipo uno speciale dove non so Giochiamo tutti insieme E così possiamo stare tutti insieme A divertirci Perciò ragazzi veramente vi aspetto Ora siamo ancora in pochi Però sono fiducioso che con l'avanzare del tempo Riusciremo a creare su una bella community Adesso spostateci un po' più in generale Avrete sicuramente visto i miei miglioramenti tecnici Che ho fatto davanti il tempo Ho messo su dei nuovi led per l'illuminazione Poi dopo ho preso un nuovo green screen Che finalmente che l'illuminavo già Anche dalla prima volta che mi avete visto in webcam E finalmente adesso ce l'ho E posso fare dei bei video In senso allo sfondo di quest'armadio dietro qua Nello speciale 100 iscritti avevo detto che Provavo a caricare un video una volta ogni due giorni Lo stesso anche con la scuola che adesso ho Ma beh ci ho provato Se avete delle domande da farmi potete scriverle direttamente nel server discord Oppure scrivermele qua sotto nei commenti di youtube Così vi rispondo direttamente in video Adesso il programma del canale è vastissimo Ci sono davvero tantissime cose che vorrei realizzare Tra poco ne vedrete pure di molto molto belle Perciò preparatevi Volevo fare questo vlog all'aperto Solamente che sera avevo paura che non si vedesse niente E poi dopo questo video lo devo caricare in fretta Insomma perché non posso permettermi di lasciare tutto vuoto Quindi ragazzi io penso che per il video di oggi sia tutto Io vi ricordo di lasciare like Di commentare e di iscrivervi E ci vediamo alla prossima Ciao